Vince! Questa seconda edizione del festival è tutta una volta artisti! E' la nonna, come si chiama? Guarda com'è contenta! Vieni, vieni! E' Gianluca, ma il tempo è il vincitore! E' il vincitore! E' il vincitore! Con il brano Pensieri e parole, complimenti! Premia il maestro Mogol! E' tutto chiuso in una via, ed un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia realtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome è mio, tu sola sai, se è vero o no, che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore... Uno dei ragazzi è stato molto bravo, e che ha cantato dieci ragazzi. Maestro, ti ricordi al volo? Cucino? Sì, Cucino. Gerry Cucino. Stringiamo la mano, va bene? Bravo, bella questa menzione da parte del maestro. E gli facciamo una fotografia a tutti insieme, d'accordo? Certo, certo, una foto tutti quanti insieme. Eccolo, questo è il ragazzo che è stato citato ora dal Gerry Cucino. Molto, molto bravo. Accompagnato ovviamente dal Presidente dell'Associazione Paese Mio, Gregorio Fiscina. Sì, leggo fra... Vieni maestro, grazie. Sicuramente è previsto anche il Sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola. Bentornato, grazie. Grazie. Ancora il nostro saluto al maestro. Presidente. Allora, siamo insieme, Alessandro. Chiamiamo anche il Sindaco. Allora, chiamiamo... Allora, il Sindaco premerà... Così ci prepariamo con tutti i premiatori. Allora, il Sindaco premerà... Quindi il Sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola. Il Sindaco premerà il terzo posto, poi... Sì, sì, ma intanto li chiamiamo, così sono già a disposizione. Il Presidente della BCC è previsto. Comuni cilentani, Lucio Alfieri. E poi, appunto, il nostro Presidente Mogol ce l'abbiamo. Bentrovato, Sindaco. Bentrovato. Prego, Lucio Alfieri. Allora, partiamo dal terzo. Terzo... Nessun dolore. Michela Pisillo. Nessun dolore. Michela Pisino. Pisillo. Pisillo. Secondo, Francesco Casoni, al cinema. Francesco Casoni, con il brano al cinema. Il primo, riserviamolo ancora, maestro. Iniziamo a premiare... Un attimo, un attimo di... Iniziamo a premiare. È arrivata... Intanto, eccola qui. La terza, i nostri complimenti, che poi è stata la prima ad aver cantato questa sera. Complimenti, brava. Allora, sì. Brava. Ci portano il trofeo con il piatto artistico realizzato. Chissà, perché, chissà... Chissà, perché, chissà... Mi parec'è verità... Davanti a me... C'è una altra vita... La nostra... La nostra... È già prima... La nostra... La nostra... che non adesso mi torna e non mi amore e non mi chiede e non mi chiede per non odiarti se vuoi grazie grazie al mio maestro facciamo ricantare il ragazzo il contro coro il vincitore del festival noi ci accomodiamo finiamo con il vincitore del festival il contro coro finire con la mia cantante preferita lei si chiama Valeria Rossi e chi è Valeria Rossi? Valeria Rossi è quella che qualche anno fa cantava dammi tre parole il primo anno il secondo anno ne cantava uno che era ancora più bello che si chiamava Luna di Lana se non la conoscete me la canto io perché merita di essere citata la canto dove faceva così con la salvia faccio una salvietta con la forca faccio una forchetta col tramezzo faccio un tramezzino una bomba che fai grazie a Gropoli voglio ringraziare il direttore Giorgio Fescina voglio ringraziare Bruno Carbone per avermi voluto qui e soprattutto voi grazie a voi io faccio il lavoro più bello del mondo grazie grazie eccolo forte grazie salvatore di porta grazie grazie bravissimo grazie